Diamo il segnale che ci accontentiamo e non accetto questo, non accetto tutto questo, che non è possibile che dopo un primo tempo così torniamo agli spogliatori invece di caricarsi, di avere i denti avvelenati, di essere arrabbiati, facciamo una prestazione come oggi, come il secondo tempo. È una vergogna, è una vergogna, ed è colpa mia, è colpa mia. In quattro giorni stiamo parlando di nulla, due partite buttate proprio, fatemi passare i tempi nel termine, nel cesso, nel cesso. Non voglio sentire alibi, non voglio sentire alibi, non voglio sentire l'alibi da stanchezza, non voglio sentire nulla. Per giocare a casa ci vuole il beleno, bisogna pedalare per 90 minuti. E mi sentiranno, e mi sentiranno, non è finita qua, e non è finita qua. Manca l'ultima partita, manca l'ultima partita. E dopo vediamo, dopo vedremo insomma alla fine.